Viale 11 febbraio a due passi dal centro di Bassano, fermata delle corriere sia per il servizio urbano che extraurbano. Vedete bene che sono segnalate tutte le tappe con tanto di numeri di bus che passano e relative destinazioni, tra cui quello che porta in ospedale. Un servizio fondamentale per le tante persone, soprattutto anziani, che devono recarsi al San Bassiano. Ma c'è un però, perché una nostra anziana telespettatrice ci ha informati che le tabelle degli orari degli autobus erano sparite. Lo vedete anche voi. Lei, che sino a qualche tempo fa usufruiva del servizio pubblico proprio per recarsi in ospedale per le visite di controllo, non sapeva più che fare. Noi, dopo aver constatato l'assenza degli orari del passaggio delle corriere, abbiamo chiesto l'Umi a SVT. Sì, grazie alla nostra segnalazione, l'azienda si è subito mossa per ripristinare le tabelle e in un paio di giorni tutto è tornato nella norma. Orari ben visibili e chiari.